La città dell'Aquila fa da prepista ad una nuova possibilità in tempi di Covid e per la prima volta i tamponi molecolari, che attualmente sono eseguibili solo alla Aslun e in ospedale al Dante Labs, potranno essere fatti anche nelle farmacie comunali. L'AFM, infatti, la municipalizzata comunale che gestisce le farmacie comunali diretta dall'amministratore Alessandra Sant'Angelo, ha sottoscritto un importante accordo con il laboratorio aquilano Dante Labs. Oltre al test rapido antigenico che fornisce il risultato in 15 minuti, sarà possibile effettuare nelle sei farmacie comunali dell'Aquila anche il tampone molecolare. Il protocollo d'intesa tra FM e Dante Labs, il più grande laboratorio in Italia per capacità di processamento dei tamponi, 40.000 al giorno anche nel Regno Unito, è assolutamente importante e innovativo. Grazie a questo accordo, le farmacie comunali cittadine diventano un punto di prenotazione ed accesso per le prestazioni di laboratorio, con la comodità di un servizio più capillare e fruibile, sostiene l'amministratore di FM Alessandra Sant'Angelo. Mettendo a sistema l'accessibilità alle farmacie e la capacità analitica di un grande laboratorio, si potrà garantire un servizio professionale ed efficiente nell'interesse dei cittadini, in un momento in cui i casi aumentano e spesso si stanno creando anche lunghe file per l'esecuzione dei tamponi. La raccolta dei campioni, cioè l'esecuzione dei tamponi, avverrà nelle farmacie comunali, che poi Dante Labs raccoglierà nel pomeriggio tramite un proprio operatore, per processarli e fornire il risultato. Un servizio ulteriore, perché le farmacie già in questo periodo si sono spese molto per allargare il campo delle possibilità e dei servizi, implementando le attività con orari più flessibili, vista la grande richiesta di tamponi per il Green Pass e più personale.